Radio Kishinau è partita, ciao gruppo, un saluto a tutte le 2400, quanti siamo ora sul gruppo? Siamo molti, 2004 mi sa li abbiamo passati. Questa è la cialda di Pecton, abbiamo oggi qua inaugurato la nostra SOS University che è una sala, questa multifunzione, che serve per espandere gli spazi del policlinico, del teaching e research, sarebbe tutti questi banchetti dove ci sono le postazioni per chi segue le lezioni e le postazioni anche per alcuni progetti, alcune start up che stiamo facendo, di cui però non parliamo oggi. Oggi parliamo di alcune novità, parliamo di… è vivo, il tuo è un bel caso pure, mi ha mandato già le foto delle radiografie, Fania e… sarà bene. Il tuo era facile a confronto al suo, lui poi rischiava di non fare nulla proprio. Ah, come lei praticamente. Questa è la cialda di Pecton, il Pecton è un polimero, ok, è un polimero ad alte prestazioni, prima c'era il PIC, ora c'è il Pecton, se volete sapere quella che è la struttura, andatevi a cercare semplicemente le informazioni su internet, trovate tutto quanto su internet, da dove deriva, la parte chimica e anche da… vedete c'è nella scala più inferiore c'era il PIC, ora invece c'è il PEC che è un materiale più resistente, il PIC tendeva a rompersi, prima era un pochino più fragile, questo invece è più forte, si svilupperà in futuro, ci saranno anche nuovi materiali, però quello che sta di fondo è che le strutture che stiamo andando a fare sugli impianti sono delle strutture che in mezzo hanno dei materiali stress assorbenti, stress assorbenti perché la struttura dentale naturale è ammortizzata, invece i denti sugli impianti sono rigidi, è come un'auto senza gli ammortizzatori e quindi cosa succede? Che oltre a questo c'è un altro grosso problema, che non c'è sensibilità e se non c'è sensibilità sui denti non capisci quando stai sforzando, se superi i limiti di flessione dei materiali si rompono, allora l'unica cosa è prevenire le rotture, come visivamente, lo dico sempre questo, non dovete condizionare la vita ai familiari, vi fate il vostro scompartimento a casa dove c'è il cibo che potete mangiare e le cose che invece non potete mangiare lì non le trovate. Ci sono alcuni cibi che ci hanno sorprese dentro, semini, semi, possono avere pezzi di noci, tipo le torte vietate, quelle che fate magari con le noci possono avere dei pezzi di gusci dentro che te ne accorgi quando il dente si rompe, che c'era il guscio di noce. L'altra cosa è, nel lato invece tecnico, uno è il lato abitudini di vita, ci sono cose che non puoi più fare, strappare il cibo, il cibo lo tagli col coltello e lo mastichi, non strappi la bruschetta, non strappi le cose gommose, tipo la carne molto dura, la taglia a pezzetti e la mastichi e cerchi di comunque quando mastichi sempre controllare i movimenti perché il cervello ci metterà dei mesi a capire dove sono le interferenze, ok devo fare così con la bocca, c'è un'interferenza, sbatte, allora devo fare così e memorizza, c'è una sorta che si chiama l'homunculus celebrale che noi abbiamo praticamente una memoria di quelli che sono i movimenti che possiamo fare, anche con la bocca c'è una memoria che ha il cervello di quelle che sono le escursioni, queste escursioni ci vogliono dalle 3 settimane fino ai 2-3 mesi perché si memorizzano, per quello diciamo sempre la visita di controllo dopo 6 mesi perché se ci sono problemi biomeccanici saltano o anche di infiammazione, rigeti, i primi 6 mesi si vedono il grosso dei problemi, dopo 6 mesi si torna al policlinico, se vanno fatte modifiche si fanno in quei 6 mesi, in quei giorni in cui si va al policlinico, diciamo sempre venite due giorni, se però ci sono problemi allora si rimane più giorni, ok se vanno sostituiti i denti si sostituiscono i denti, se va cambiata l'arcata si cambia l'arcata, se le cose vengono fuoriusandole, le arcate durante la vera riabilitazione inizia al momento in cui vi ferriamo, che vi mettiamo i ferri in bocca, ora inizia la riabilitazione, gli ultimi giorni definitivi, molti pazienti ci dicono sempre, mi montate i denti all'ultimo, tranquillo che tra 6 mesi devi tornare e il controllo non è che lo vediamo in due giorni in più che stai, è dopo 6 mesi che vedremo se ci sono problemi, le gengive possono continuare a riassorbirsi e dobbiamo aggiungere gengiva oppure ci sono modifiche anche estetiche da fare, modifiche fonetiche, modifiche masticatorie o modifiche proprio di struttura, che proprio la struttura delle volte, guarda i problemi che noi abbiamo sono problemi o prima dei lavori, che proprio le cose non si possono fare, per lui per esempio c'erano lavori, problemi prima, proprio pianificazione su di lui non si poteva fare perché aveva un tipo di osso, per la privacy non inquadro quindi nessuno vede, un tipo di osso a clessidra dove non si potevano mettere gli impianti, allora abbiamo pensato a delle tecniche diverse con delle griglie in titanio da stampare questi macchinari e invece non se ne è fatto nulla perché abbiamo utilizzato una tecnica che è più intelligente, non è che è più sofisticata, è più intelligente, se c'aveva l'osso a clessidra noi toglievamo i denti, è di una banalità unica che se però ti metti a smanettare in giro per il mondo eccetera, delle volte sono in altre parti del mondo le genialità che però se te le vai a cercare le trovi, c'è un'osso a clessidra, se io devo togliere i denti l'osso tutta la parte di sopra collassa e non ci stava più l'impianto e sotto c'era anche il nervo nel suo caso, allora noi che facciamo? Non togliamo le radici, le tagliamo le radici, mettiamo gli impianti, integrano gli impianti, tengono l'osso, dopo togliamo le radici, risolto, è un gioco di Tetris, però si risolve, c'ha gli impianti in bocca, verrà, togliamo e sfiliamo le radici, si possono anche non togliere le radici, lasciare lì, si possono. Sono delle volte, alla fine le facciamo tutte così perché se noi iniziamo a interrompere alla fine di modo che la parte registrata è compatta, poi stacchiamo e facciamo anche un'altra ora di domande, dove siamo arrivati? Quindi quello che dobbiamo fare è qua nel caso della ricostruttiva totale sulla bocca andare a cercare di evitare i problemi, i problemi delle volte non li puoi eliminare, nel senso non posso darti la sensibilità perché gli impianti non sono innervati, quello che posso fare allora è cercare di ammortizzare, mettere delle sorte di ammortizzatori. Il problema è che ci sono dei materiali che sono stabili e dei materiali che non sono stabili nel tempo, nel senso che tendono a cristallizzare per esempio, oppure materiali che sono delle resine con una parte all'interno come le resine di un certo tipo, insomma che c'è una parte anche che tende a irrigidirsi, ingiallire o perde di adesività negli anni, allora bisogna usare certi materiali che sono stabili. Alcuni materiali si è visti come per esempio le resine che tendono a cristallizzare, ok? Dentro in resina quelli vanno bene come provvisori. I materiali che sono molto più stabili sono i compositi, le ceramiche e lo zirconio, però sono anche questi tutti i materiali che non c'entrano nulla con la natura, sono proprio come dire che il titanio è uguale all'osso, uno è titanio, l'altro è osso, uno è vivo, l'altro è una cosa morta, non è vitale, non ha lo stesso grado di flessione dell'osso, il pectone è il materiale che più si avvicina al grado di flessione dell'osso, tant'è che viene usato in ortopedia da tanti anni, nelle protesi per esempio, protesi anche craniche, quando un paziente deve rimettere le placche che l'hanno operato e gli fanno tutta la placca, per esempio infectano, oppure ci sono protesi proprio ortopediche alla schiena, vertebre, pezzi per esempio di carpo, metacarpo, viene utilizzato da tanti anni, ma nell'abito odontoiatrico questo ci aiuta ad assorbire gli stress, qual è il punto debole di questo materiale? È che se io non ho abbastanza spessore c'è il rischio che questo materiale, anche questo si rompe, flettendo si può rompere, dove? Nel punto per esempio tra un impianto qua e l'altro, quello che si fa allora è eliminare quell'altro problema con un materiale di resistenza all'interno, il materiale di resistenza lo devo poi accoppiare, questo qui dà che cosa? Resistenza alla frattura, alla compressione, è un materiale che regge molto bene, alla flessione non regge molto bene, questo materiale per accoppiarlo col pecton vanno utilizzati poi dei materiali, dei cementi appositi, questa è la società italiana di Protesi Toronto, la società, qua ci sono dentro tutti i protesisti, chirurghi italiani, anche noi qua postiamo, questo per esempio è uno dei post bellissimo, gran bel lavoro, fanno domande, chiedono il pecton, è diverso dal pecton, chiedo per imparare, ma non si fanno queste, costano molto farle, perché sono tanti materiali che vanno usati, che costano, c'è un tipo di lavorazione che costa, alla fine cosa facciamo noi? Ci attiriamo a noi facendo le pubblicazioni, le persone che magari anche loro le fanno e facciamo gruppi studio e noi pubblicando su internet riusciamo a entrare in contatto con le persone che sono come noi, che utilizzano quelle cose, che sono in uno stadio un pochino più avanzato, non pubblichiamo solo qua, ma pubblichiamo anche su altri gruppi, Exocad Expert per esempio, qua su Exocad Expert gli esperti invece c'ho il gruppo di tutti quelli che sono gli esperti di ricostruttiva digitale, qua pubblichiamo anche noi tantissimo e facciamo gruppo, questo per esempio è un altro nostro caso. Ci abbiamo noi da risolvere diversi problemi con diversi materiali, ci abbiamo in più davanti delle grosse difficoltà tecniche perché dobbiamo simulare con materiali artificiali la natura e i materiali artificiali sono pessimi, tutti quelli che ci sono e ci abbiamo in più il problema del know-how, della conoscenza, nel senso che bisogna anche saperli usare i materiali e saperli anche progettare e abbiamo anche il problema che chi ha il know-how non ti passa sotto casa, non passa sul marciapiede, chi ha il know-how ha piacere, anche io faccio questo, allora pubblicare su internet, fare le foto, il programma cinema, quello che esiste che ha una doppia funzione, quella sia di tutelare il paziente che si cura all'estero perché il paziente che entra nel programma cinema diventa praticamente un caso cinematografico che viene usato poi per andare pure sul web, questo qua per esempio è un altro paziente cinema che entra sul web in tutti i gruppi di dentisti, di protesisti, di chirurghi e serve per attrarre a noi fondamentalmente i cervelli. Allo stesso tempo fare che cosa? L'organizzazione dei corsi, perché qua organizziamo poi i corsi e i corsi per noi sono vitali per avere la formazione gratuita, perché i corsi noi li facciamo a pagamento, noi li facciamo gratis, quindi vengono i chirurghi, vengono i protesisti, vengono gli odontotecnici, stiamo espandendo sempre di più l'area corsi, ora per questo abbiamo ingrandito la sala, l'abbiamo fatta professionale di modo che ci si può sedere e fare non più nella sala che c'è interna la clinica, prima era quella clinica ma più di 10 persone non ci stanno, ora siamo una capienza di 25 persone, quindi possiamo fare che cosa? Tutto un ecosistema attorno che se tu vuoi fare un'azienda che fa una cosa verticale è fondamentale, devi avere la ricerca, devi avere l'insegnamento, devi avere la corsistica e devi entrare nei gruppi, il miglior modo di entrare in contatto con le persone è mostrare quello che fai, mostrando quello che fai iniziano a seguirti chi? I futuri corsisti, qua dentro ci sono i futuri corsisti, persone che vengono e iniziano a seguire, a vedere quello che facciamo, l'importante è far vedere quello che fai, se non fai vedere quello che fai è difficile attrarre a sé le persone giuste, noi abbiamo attratto le persone giuste, ricercatori anche sopra, ne avete visto uno che ci ha conosciuti attraverso internet, ha detto io me ne vado via da Londra, vengo lì perché lì le posso fare queste cose, a Londra è difficile, ti costa 70 mila sterline una cosa così, semplicemente queste due arcate così le va a pagare su 70 mila sterline, con gli impianti chiaramente, però lì non le possono fare, allora fanno delle cose più semplificate perché nessuno ha 70 mila sterline e allora facendo le cose più semplificate c'è il problema che non cresce la cucina con i cuochi, ti chiedono sempre il kebab, il kebab, il kebab, nessuno ti chiede magari la cosa più sofisticata, ma non la fai allora a quel punto e dici il cuoco che la sa fare e ti dice sai che c'è, me ne vado a Dubai e lì ti prendi che ne so il pakistrano che ti fa il kebab, ti prendi ed è quello che sta succedendo a livello globale, sta succedendo questo, che le eccellenze si stanno focalizzando là dove si fanno certe tipologie di servizi, di lavori, invece il territorio dove è troppo costoso rimangono i piccoli lavori, per i piccoli lavori significa che si sta dividendo il mondo, si sta dividendo e questo lo sta facendo che cosa? L'economia e la rete, il web, stanno insieme alle compagnie low cost, quindi cosa succede? Che c'è il mondo che inizia a andare a due velocità, quello che era il mondo in via di sviluppo e in realtà lì stanno nascendo tutti i centri ricerca, sviluppo, se voi andate per esempio a vedere delle strutture dedicate solamente a dialisi, trapianti, cose abbastanza complesse che in America costano troppo, in Australia costano troppo, allora uno va in Turchia per la dialisi o per il trapianto che lì non potrebbe fare o c'è lì sta d'attesa 6 mesi, piuttosto di morire, prendo l'aereo e vado lì e mi faccio privatamente in un centro d'eccellenza il trapianto o quello di cui ho bisogno. Il mondo sta andando a due velocità, quindi c'è il territorio che era ricco negli anni 70 che sta perdendo di competitività, perché i cervelli vanno via, i cervelli vanno via perché non si possono fare lì certe cose, non è che non si possono fare, non c'è la richiesta, la richiesta c'è, i pazienti ci sono ma si curano altrove, non è che i pazienti sono diminuiti, i malati sono sempre quelli, non è che la gente non mangia più, la gente mangia altrove, si cucina a casa ma non è che la gente ha smesso di mangiare, cenano tutti, pranzano tutti, ma pranzano a casa, non vanno al ristorante, oppure vanno all you can eat, o vanno più alla pizzeria, non vanno a quella… e questo che cosa comporta? Comporta se si sta in questi territori, essere sommersi di lavori molto complessi, questo è un effetto, che se tu lavori all'estero non ti arrivano le cose semplici, per il motivo che vi ho spiegato, ti arrivano le cose difficili, se voi vi guardate attorno non dovete fare devitalizzazioni o fare un'otturazione, dovete fare cose complesse, per fare cose complesse significa abbattere il rischio, abbattere il rischio significa andare a aprire tutti i blocchi o cercare di ridurre il rischio di quelle che sono le criticità, le criticità sono che, vi dicevo, i casi sono molto complessi perché parliamo di bocche che non hanno più coordinazione, non hanno più sensibilità e in più abbiamo come armi materiali artificiali che non avranno più propriocezione, ovvero la tattilità viene a mancare, in più abbiamo pazienti che se hanno perduto i denti c'è una storia dietro, se un paziente perde i denti c'è un motivo se arriva a perdere i denti, li perde perché è successo qualcosa che fosse batterico, che fosse parodontite, genetico, associata a batterico oppure traumatico, incidente, comunque è un paziente quello dove se non fai anamnesi e raccogli i motivi per cui ha perso i denti c'è alta probabilità che perdi anche i lavori che fa, supponi che un paziente fumava due pacchetti di sigarette al giorno, parodontale, magari c'è il valvizio che ne so anche di fumarsi la pipa, oltre che le sigarette, la pipa è la peggior cosa, ti fa perdere tutto la pipa, sui peggiori pazienti è meglio neanche trattarli perché o smettono proprio e passano magari alla sigaretta elettronica, qualcosa di più leggero, ma la pipa veramente fa i danni, ti tiene un fumo denso che ti fa perdere tutti gli impianti come hai perso i denti e ci sono quindi da correggere abitudini, da correggere che cosa? L'educazione alimentare va cambiata, quello che vi dicevo prima, l'igiene può essere un motivo, delle volte ci possono essere anche patologie di pazienti che non riescono a muovere le mani per esempio e quindi può essere una causa anche quella, se tu metti i denti nuovi ma al paziente gli tremmano le mani o è un paziente anziano che ha problemi reumatici alle mani per esempio, non so se li avete mai visti, le mani così, con le dita così, stadi avanzati, quello come fa a pulire bene i denti? Non ce la fa e allora li devi andare con delle protesi semplificate, fai delle protesi che si staccano, le lavi con uno spazzolone e la rimetti, clic clac, va individuato il tipo di psicologia, il tipo di dinamica che c'è nella bocca, l'età della bocca che non è strettamente uguale a quella dell'età del paziente, ci sono bocche che sono molto più usurate, tutte slegate le articolazioni e bocche invece che sono molto coordinate, quelle sono bocche giovani, più ci sono bocche che sviluppano molta forza e bocche longilinee come la sua che sviluppa poca forza, la tua sviluppa molta forza, si è un bracchi facciale, anche lui sviluppa forza, tu c'è una taglia M, lui c'è una taglia large, lei ha una XS come bocca, è piccolina la sua, se una bocca è piccolina non puoi, sei legato nel suo caso perché non posso fare molti accoppiamenti di materiali, perché se no con i dentoni così se devo usare molti materiali, più materiali uso, uno, due, tre tipi di materiali servono gli spessori, lo zirconio non posso andare sotto il millimetro e mezzo, il pectone è meglio stare sopra i 3-4 mm, 2 mm e mezzo si può andare, però sempre meglio avere dei materiali di rinforzo sotto e il metallo possa andare anche fino a 3 mm, se provo a bocca XS comunque sono tanti e allora lì già sono limitato, posso usare certi materiali o certi accoppiamenti, massimo due materiali. Poi ci sono anche le incognite dovute agli impianti, impianti quanti ne posso mettere, una bocca come la sua, non metto 8 impianti dentali, non ne metto 10 impianti dentali, ne metto 6 impianti dentali, ok? Se no gli arriva le tonsille con gli impianti dentali, ok? Vanno commisurati all'arco della bocca gli impianti dentali e anche e soprattutto al diametro che c'è tra l'arco superiore e quello inferiore. Se l'arcata superiore è molto più stretta rispetto a quella inferiore, gli impianti che metterò qua posteriori saranno molto più esterni rispetto a quelli posteriori in alto, quindi la protesi dovrà correggere andando verso l'esterno e qua sopra si crea un ginocchio dove si incastra cibo, questo cibo è sempre così per toglierlo e quello alla lunga ti può causare infiammazione alla gengiva, si irrita, ok? Prova a non fare il bidet per 2 settimane, ok? O per un mese, non fai il bidet per 6 mesi, minimo ti viene il sangue, ok? La stessa cosa è in bocca, la stessa cosa è in bocca, se il cibo ristagna le mucose si irritano fino ad arrivare al sangue, sono deboli, non sono così forti le gengive, specialmente vicino agli impianti, nei colletti, poi parliamo anche di quello, vedete questa protesi, per esempio è una protesi dove abbiamo fatto entrare le connessioni dentro fino agli impianti, vedete che le connessioni sono piatte in realtà, se vi faccio vedere quella foto, mi facevate prima domanda sulla flessione, la connessione, la vita interna cosa fa? È stressata per flessione o compressione? Questi sono dei piattelli che ci sono, che entrano dentro, che si poggiano proprio su un piattello che sta sull'impianto, ve lo faccio vedere qua, se vede meglio, multi unit, ve lo faccio vedere qua, ecco qui, praticamente ci sono diversi tipi di multi unit, ci sono dritti, angolati, più angolati, più angolati, qua la vite entra all'interno dell'impianto, qua l'abatment e anche qua sta andando a comprimersi verso le pareti dell'impianto, quello che succede è che il punto fulcro è il colletto dell'impianto, la vite di ancoraggio è sotto, sta a metà dell'impianto, non è mai sopra la vite di ancoraggio, è come se fosse l'ancora, è un'ancora la vite, ma il vero fulcro è l'impianto stesso, il colletto dell'impianto. Quando ci sono carichi flessori, quello che si rompe non è tanto la vite, ma delle volte si può spaccare l'impianto e questo succede quando gli impianti vengono protesizzati, o meglio i denti si mettono sopra gli impianti senza essere uniti tra di loro gli impianti, ovvero c'è una protesi che è singola su quell'impianto, allora quella flette, c'è un carico flessorio, ma se io faccio un ferro di cavallo che lega insieme tutti questi impianti, il carico flessorio non c'è più, c'è solo questo, perché è un ferro di cavallo che li lega tutti questi impianti, te lo faccio vedere, vedi, perché nasce la necessità di legare gli impianti tra loro? Per due motivi, il primo era quello di evitare che le protesi si rompessero quando masticano, non posso metterti un impianto unico a ferro di cavallo dentro l'osso, devo mettere delle viti, però le viti, gli impianti c'è un unico movimento che non sopportano che è questo, se l'impianto è sottoposto a queste sollecitazioni, l'osso attorno qua si riassorbe e viene la perimplantita, ce lo perde l'impianto, allora da lì erano nate dei fili di titanio che venivano elettrosaldati a dei perni in titanio che uscivano dall'impianto, quella era la vecchia scuola che ancora la fanno, ok fate attenzione perché è roba di 30 anni fa, ma c'è ancora chi la fa e non ci credete alla fanno, eccola qua, vedete questo è un filo che è elettrosaldato, 22 luglio 2019, ancora lo fanno, questi sono i denti definitivi, questi sono i nostri denti definitivi, questi sono i loro, c'è questa, questa è resina, la vedi qua che è plastica questa, andiamo più giù, questo è un paziente protesizzato su soli tre impianti, vedete questa è la tecnica, c'è una barra in titanio che viene elettrosaldata, questa è la tecnica analogica, ok, poi questa la mandi al laboratorio, il laboratorio lì la ricopre tutto con resina, con plastica e si vende al paziente come definitivo, questo è il filo che regge gli impianti. La tecnica più evoluta per cui chiedono è questa, digitale, fai tutto col computer disegnato, vai a stampare con una macchina la barra, con una macchina fresi il pecton, con l'altra macchina invece vai con laser a sinterizzare gli strati di polvere che può essere titanio o cromo cobalto, qua ti serve titanio ma dal momento che tu vai invece a non dover saldare nulla sopra dei perni che sono intimi con l'impianto hai praticamente eliminato il problema perché l'unica parte che rimane in titanio connessa con l'impianto non è dentro alla parte protesica per risponderti quindi a quella domanda ma è questa, è l'abatment, titanio con titanio, ok quindi l'abatment, il multi unit entra dentro l'impianto, fuoriesce dalla gengiva un piattello, su quel piattello io ci posso poggiare quello che voglio perché non ho problema attorno alla gengiva, se devo andare in profondità come per esempio è stato questo caso allora gli faccio la barra in titanio, dove che sta me lo so perso, questo l'abbiamo fatto col titanio ma doveva entrare dentro senza bypassare i multi unit, questo andava diretto sull'impianto, dipende quindi la domanda è sempre, lo so che voi volete la semplificazione ma in realtà la perfezione è sofisticazione, ok non ci sono soluzioni semplici, ci sono soluzioni che sono sofisticate, devi analizzare il problema, delle volte serve in una parte una cosa, nell'altra ne serve un'altra, delle volte per esempio facciamo l'arcata addirittura sopra in zirconio e quella sotto la facciamo col composito, dipende quando il paziente ha una bocca molto slegata allora conviene avere la parte sopra in zirconio estetica che poggia sopra un'arcata in composito più morbida perché se io ho un paziente che crea delle interferenze perché le articolazioni sono molto slegate, perché ha avuto mancanza dei denti, le articolazioni si sono spianate, praticamente la bocca come quella di un ruminante, c'è il rischio che zirconio con zirconio scheggia perché non se ne rende conto, sviluppa talmente tanta forza quella bocca che può scheggiare, inavvertitamente proprio, non se ne si ritrova la scheggetta in bocca, vi capitano gli spasmi muscolari, ne avete mai avuto che fai? Può capitare, quando il paziente è bruxista che scheggia, allora in quel caso parliamo però di pazienti che hanno perduto completamente i denti, se un paziente ha i suoi denti naturali è più difficile perché ha la propria accettività e la tattilità, tu un capello tra i denti lo senti, ti metto le capsule in zirconio, un capello tra i denti lo senti perché vicino alla radice ci sono i sensori, se io tolgo le radici i sensori non ce li avrai più, quindi bocca come la sua tuta su impianti non ha più i sensori e lì se quella è slegata c'è il rischio che scheggia, quando abbiamo iniziato a fare ricerche tutti ci hanno detto provate a fare così, non abbiamo più avuto problemi su quei pazienti, quando vediamo che su zirconio abbiamo problemi, cambiamo un'arcata e la facciamo in composito, una, non si hanno più problemi, colore fa il match, cerchi il colore simile, ci sono tutti i compositi che hanno il colore comunque lì è secondario rispetto alla biomeccanica, prima deve venire la biomeccanica di un lavoro che non si rompe, il colore è bello però si rompe e allora è secondario il colore, cerchi di avere il match e trovi il colore corretto, poi un'altra cosa molto che è vietata fare le due arcate in tempi diversi, per esempio lui tu hai fatto la prima arcata senza fare sotto perché sotto stavamo prendendo tempo perché non si poteva fare nulla lì, allora mi sono fatti tutti i miei giri, è andato io sempre a cercarmi le soluzioni per uno, alla fine la soluzione che abbiamo adottato in un secondo tempo ci costringerà quando finiremmo il suo caso a rifare poi l'arcata sopra, dobbiamo sostituire facendo pentola e coperchio insieme, uguali, allineati che hanno la stessa concordanza in dinamica, altrimenti c'è il rischio che l'arcata superiore l'aveva fatta in accordo con quella inferiore, per ora quella inferiore l'abbiamo tolta, non abbiamo più limiti, possiamo fare quello e vogliamo sotto, a quel punto rifacciamo equilibrato sopra una volta per tutte, con il cranio, con i movimenti della mandibola, quello che facciamo, ogni tanto torno magari anche qua, così vi faccio vedere altre cose qua, ok cosa vedete qui? Lavoro finito, questa è resina, qua c'è una frattura, questo succede quando per esempio non si hanno le barre interne, belle robuste, belle sostenute, allora cosa succede? Che tutto il carico masticatorio va a scaricarsi nelle zone di minore resistenza, le più sottili, cioè dove è più sottile si rompe, ecco, vedete i soldoni, e le zone più sottili sono quelle dove ci sono i fori, passanti per gli impianti, infatti quasi tutte le rotture delle protesi provvisorie ce le avevamo, da sono a lezione, mia mamma, no scherzo, con i pazienti vieni in SOS University? Arriviamo, arriviamo, ok, che arrivo? Dovevo essere in centro, dovevo essere in centro, allora va bene, finiamo la lezione qua e la riprendiamo domani, la riprendiamo, mi sono dimenticato di un appuntamento importante, dovevo essere già in centro alle 6, quindi quello che succede è che nelle zone di minore resistenza le cose si rompono e riprendiamo da qua domani, va bene, lascio questa foto sul gruppo, sul gruppo la, ah dici se avete domande?